chiusi di lunedì e anche lì non si capisce perché uno a lunedì non debba farsi la barba o i parrucchieri non debbano farsi i capelli adesso ci sono più estetiste parrucchieri barbieri penso aperti di lunedì perché ormai non c'è più la concezione della settimana come una volta che i negozi stavano chiusi domenica di lunedì stanno chiusi barbieri è diventato più un circo un circo continuo quindi non si ferma mai no è per questo il tema che volevo dire io perché il lunedì è pesante non è pesante la settimana è un ciclo e perché questo lunedì deve essere più pesante dato che hai attraversato tante settimane no quindi dovessi essere abituato ai lunedì ma il lunedì è davvero un giorno zero ma realmente ogni giorno non è un giorno zero cioè tutti i giorni tu non ti devi svegliare e fare le tue cose perché stamattina non ti svegli non ti lavi i denti o non fai le tue cose è sempre un ricominciare da capo perché le cose non si fanno da sole ciao pentesilea quindi ogni giorno un giorno zero quindi non arricchiamo carichiamo il lunedì di aspettative da giorno zero o da giorno uno come lo vogliamo chiamare perché lunedì e si comincia da capo perché ogni giorno è un ricominciare da capo dicono i filosofi i poeti no che quando vai a dormire ogni giorno è come morire e ogni mattina quando si sveglia una rinascita ogni giorno rinasci poeticamente filosoficamente si può vedere così quindi giorno zero non è solo il lunedì lo credete voi che è così giorno zero ma poi scusate può essere una vita sempre 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 di domenica ritornando a vasco no c'è la canzone bellissima di vasco dove dice ti immagini se fosse sempre domenica non è possibile c'è questa canzone bellissima dove dice ti immagini se la vita fosse così ti immagini se tua madre fosse meno nevrotica ma ti immagini se fosse sempre domenica no dici ti immagini ti immagino ma no sono favole sono favole un'altra canzone di vasco dice favole 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 sono favole non può essere sempre domenica ma poi che incubo tutti i giorni domenica cosa siamo intrappolati in un loop quindi fattene una ragione il lunedì esiste ma poi il lunedì esiste e te ne devi fare una ragione e poi in realtà esiste e posso dirti possa azzardare non esiste il lunedì il lunedì è una convenzione ce lo siamo inventati il lunedì cioè noi abbiamo diviso per convenzione la settimana in sette giorni eccetera ma il lunedì non esiste come per esempio per i barbieri lunedì non esiste ma per uno che lavora su turni il lunedì non esiste quindi è una convenzione lunedì prova a immaginare che lunedì non esiste e che alla fine la vita gli abbiamo dato una diciamo una visione una caratteristica ciclica no ma chi l'ha detto che oggi è lunedì c'è una convenzione nostra ma non è vero che oggi è lunedì ce lo siamo inventati noi esseri umani per l'universo se riesci fuori dal pianeta vai su marte non è lunedì se vai in un esopianeta non è lunedì se vai in un'altra galassia non è lunedì il tempo non esiste oggi non è lunedì ce lo siamo inventati noi che è lunedì allora perché lo devi vivere male se non esiste questo lunedì e tu mi dici però cavolo lo dici te che non esiste lunedì oggi si ricomincia e devo rifare devo lavorare devo studiare devo ricomincia tutto da capo quindi lo dici te che non esiste lunedì lunedì esiste come e ma ogni giorno ricominci da capo dal lunedì al venerdì se lavori così tu tutti i giorni ricomincerai da comincerai da capo è solo che lunedì sei meno pronto perché il venerdì e sabato te la sei sciallata e allora cosa fai queste questi giorni di riposo li vivi male cioè li devi vivere male perché la gente mi dice io già dopo le 5 di domenica pomeriggio già penso che il giorno dopo il lunedì sono già in depressione e no e no ragazzi la vita si vive sempre noi stiamo vivendo sempre ce lo siamo inventati adesso qua oggi adesso sono le 18 e qualcosa ma qua per la mia amica che è new york sicuramente mezzogiorno giusto sono sei ore indietro per il giappone e sarà già mezzanotte il tempo non esiste il tempo una convenzione ovviamente noi abbiamo dei circhi circadiani cioè il nostro corpo si adatta a una ciclicità che è dovuta alla rotazione della terra e questa rotazione della terra ci combina tante cose cioè noi veramente siamo governati non dal lunedì ma della rotazione della terra la terra gira intorno a se stesso quindi abbiamo il giorno e la notte la terra gira intorno al sole quindi abbiamo le settimane i mesi le stagioni e e le settimane ecco tutta la ciclicità allora è tutta colpa della rotazione della terra non credo credo che la terra girando dir girando in tutti i suoi movimenti ci sta facendo dei grandi favori perché forse non sopravi non sopravviviamo e comunque il nostro corpo la nostra vita si adatta a questa ciclicità perché abbiamo bisogno di punti fermi di notte si addormenta al mattino si sveglia poi la settimana è di sette giorni perché bu di sette giorni perché ce lo siamo inventati o perché qualcuno ha scritto la bibbia e disse vabbè dio primo giorno ha creato cosa ha creato la luce secondo giorno ha fatto questo terzo giorno ha fatto questo il quarto questo quinto questo il sesto questo poi sette basso mi devo riposare mi devo riposare su stavo su stavo allora da lì abbiamo abbiamo inventato la domenica e il lunedì il mondo è stato creato il mondo ecco il mondo è stato tutto iniziò con un lunedì così come di lunedì iniziano tutte le vostre diete tutti i vostri propositi dal lunedì inizia la dieta dal lunedì faccio ginnastica dal lunedì metto di fumare dal lunedì inizio a studiare bene ma bene non che studio male faccio tutto bene dal lunedì perché perché tutto dal lunedì e fa l'inizio da martedì da mercoledì tanto che cambia cielo se non ti piace lunedì allora io ho capito perché lo odi perché lunedì è quel giorno del fallimento di quella dieta che non comincerai mai o comunque inizia di lunedì mattina entro mezzogiorno è già finita perché stai morì di fame e ti mangi anche la scrivania con tutta la tastiera del computer e le gambe del tavolo quindi lunedì è quel giorno di fallimento quel giorno dove fai fatica a svegliarti perché tra sei sciallata nel weekend e allora di lunedì te piglia male perché hai fatto bagordi bagordi sei uscito ti sei divertito oppure c'è chi si sfondano nei weekend o c'è chi non ha fatto niente perché devi vivere sempre devi vivere non devi vivere dal venerdì alla domenica oppure dal lunedì al venerdì ti ammazzi di lavoro segui tutti i tuoi impegni e le tue cose poi arriva il tuo giorno di libertà e non fai niente perché sei stanco perché non ti sei organizzato e perché non c'è voglia di fare niente e allora sei un po frustrato e ricominci di lunedì ma no si vive sempre per non odiare il lunedì se il giorno della tua dieta dico così no giorno il tuo buon proposito devi iniziare di lunedì lo fare iniziare di lunedì cambia giorno cambia giorno fa l'iniziale di mercoledì giovedì eccetera no e poi di lunedì se non ti piace perché l'odi no l'odi tanto questo lunedì allora sai cosa ti consiglio fai una cosa bella è lunedì c'è qualcosa di bello che ti piace fare ci sarà qualcosa di bello che ti piace fare falla di lunedì ma falla di lunedì mangia qualcosa che ti piace di lunedì perché devi sgarrare sabato la domenica sgarra lunedì così ti piace più lunedì non vedi l'ora di svegliarti e fare le cose di lunedì insomma ragazzi oggi non è lunedì oggi ce lo siamo inventato che lunedì oggi ce lo siamo inventato è una convenzione sociale immaginate che fuori dal pianeta terra non è lunedì si vive sempre non si vive solo da sabato la domenica quando sei di riposo che aspetti tutta la settimana per aspettare il giorno di riposo poi sei stanco non fai niente e quindi oggi non è il giorno zero ogni giorno e sia lunedì che domenica esatto cioè di sostanza è questa vivi tu la tua domenica la tua domenica può essere anche cioè se devi lavorare devi lavorare però da quando finisci di lavorare dalle 5 alle 8 prima di andare a letto no nessuno va a letto alle 8 però perché non può essere domenica perché non puoi vivere con l'entusiasmo di domenica cioè per forza di domenica deve essere facciamo sabato il giorno più bello è il sabato come diceva il sabato del villaggio il dì di festa no leopardi no la bellezza io quando da piccola ho letto questa poesia ero già rimasta sconvolta quando me l'avevano fatta studiare adesso non me la ricordo però è il dì di festa no quindi il villaggio va tutto in festa e c'è tutta la gioia del già di venerdì sei felice perché il sabato è il dì di festa e poi a domenica già c'è il pessimismo esistenziale per cui i giorni come ha detto il nostro Mario giorno ogni giorno e sia lunedì che domenica perché comunque devi sempre ricominciare da zero ma non è vero ricominci da zero perché ogni giorno non cominci da zero hai in base alla tua esperienza hai la tua routine le tue cose quindi non è ogni volta giorno zero facciamo un pochino uno virgola qualcosa no e quindi non è un giorno zero poi ripeto il lunedì esiste il lunedì esiste e dobbiamo farcene una ragione cioè non è che esiste non esiste però l'abbiamo inventato e c'è il calendario è scritto così nei tuoi impegni settimanali è scritto così e niente quindi era una oggi ho voluto affrontare una live semplice però il discorso di base su cui volevo farvi riflettere era non era il lunedì era il giorno zero quello di cui volevo parlarvi era proprio il giorno zero ogni giorno non è un giorno zero cioè non si deve ricominciare davvero da capo impegnarti a fare le cose vivere intensamente la tua vita ogni giorno come se fosse zero cioè senza dare per scontato che tutto vada come deve andare cioè non vivere passivamente la tua vita inerte come sei qua cioè ti stai muovendo perché c'è il pianeta terra che gira no dai su non si vive così cioè non è che ci stiamo vivendo inerti come se facciamo parte di questo pianeta allora ci stiamo muovendo perché c'è il pianeta che si sta muovendo quindi ogni giorno è un giorno zero ogni giorno si ricomincia da zero anche del giorno di festa anche del giorno in cui non hai voglia di fare niente però non passate tutte le domenica fare niente cioè però se siete contenti va bene se tu sei contento così va bene però se non sei contento a passare la domenica non fare niente se non è qualcosa dai inventate qualcosa ascoltate le mie live no scherzo io per esempio ho fatto le mie live tutti i giorni tutti i giorni per dimostrarvi che io vivo c'è sempre qualcosa da fare allora io penso così c'è sempre qualcosa di bello e interessante da fare poi noto che tanta gente si divanizza e si dà la metodologia del divanesimo o del letto o non capisco perché per carità c'è chi ne ha bisogno va bene però c'è gente che fa così e poi non è contenta e invece io davvero vivo ogni giorno come ogni giorno zero non uno uguale all'altro è perché però se io per esempio devo avere un giorno di libertà un giorno off non è la domenica che aspetto per far cose no forse perché comunque ho la fortuna di avere una vita impostata diversa dagli altri perché lavorando su turni comunque sono abituata così no però davvero non è che allora è sabato devo fare questo devo uscire qua e fare cioè non è che mi ha mi adatto a quello che fanno gli altri io vivo ogni giorno ho vissuto ogni giorno intensamente e lo sto facendo sapete quando me ne sono accorta di no vabbè me ne sono accorta che dobbiamo vivere intensamente sempre ma non voglio dire la parola pandemia cioè sono stufa di dicere ne parlano gli altri però io posso dire per la mia esperienza che negli ultimi due anni mi sono data molto da fare a vivere intensamente ogni giorno ehm cioè impegnarmi soprattutto l'ultimo anno mi sono impegnata tanto a portare a casa portare eh tutti i miei obiettivi indipendentemente dalle dalle avversità dagli dagli ostacoli e da chi mi tentava a non portare a casa i miei obiettivi e io li ho portati a termine sempre con tanta soddisfazione c'è un giorno in cui io riesco a dare 100 vabbè 100 noi esageriamo c'è chi c'è il giorno in cui 80 50 però io faccio sempre qualcosa tutti i giorni per portare a termine i miei obiettivi e da soddisfazione ti dico la verità e non è che dico oggi è domenica e non lo faccio non lo so io vivo così non sto dicendo che è giusto o sbagliato vi sto raccontando la mia esperienza ciao da piran esatto anche io mi organizzo indipendentemente che sia domenica o no esatto non è che il mondo si ferma perché è domenica andiamo avanti a fare le nostre cose indipendentemente dai nostri giorni sembrano discorsi un po' campati per aria però in realtà quello che sto dicendo io gli altri non lo fanno cioè siamo immersi da gente che vive così no quindi hanno una vita molto 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 schedulata molto molto organizzata nella settimana ciao serena e quindi hanno devono stare dentro dei paletti e quando questi paletti però sono così rigide a quanto pare e lunedì poi si ricomincia da capo quindi si vive alla settimana proprio come un fardello da portare vi ho già citato più di una volta oggi il mito di sisifo sisifo che deve portare questa roccia ogni volta caricarsi la roccia e portarla in cima alla montagna e poi arriva la montagna la roccia cade giù deve ricominciare da zero oggi ho citato la canzone di ben nato adesso sono emozionata non me la ricordo aspetta un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo in un altro ti svegli e devi ricominciare da zero quindi sei un grande uomo dal venerdì sera alla domenica sera poi il lunedì ti svegli e devi ricominciare da zero in realtà secondo me la mia teoria è ogni giorno il giorno zero possiamo vederla così ogni giorno nel senso che ogni giorno si comincia da capo ogni giorno possiamo portare gli obiettivi a casa e se ci dobbiamo rilassare non necessariamente deve essere di domenica adesso viviamo una situazione appunto particolare della storia degli esseri umani per cui vivendo lavorando da smart working cioè siamo stati un po scombussolati nella nostra routine e un giorno volevo avevo già questo argomento pronto sul prendersi le pause era una riflessione che avevo già sviluppato sia riguardo alle mie esperienze personali lavorative dove mi è capitato di andare in burnout e sia anche a un saggio che avevo letto e quindi queste cose le avevo già maturate prima di quel grande evento mondiale che ci sta coinvolgendo tutti cioè di un grande pausone in cui siamo coinvolti che è dovuta alla pandemia io la parola quella lì il nome di quello lì non lo voglio dire cioè mi sono rotta veramente basta basta quella cosa lì tipatico non lo voglio dire non lo voglio pronunciare non voglio dire parole perché già ne parlano tanti gli altri io sarete stufi anche voi no quindi guardatevi lì gruber i vari telegiornali della tv cioè ci sono già loro io non mi accodo a quelli allora la riflessione è di oggi è ogni giorno ricominciamo da zero siete d'accordo con me che ricominciamo da zero però sì cioè dobbiamo vivere con la prospettiva di cominciare da zero cioè di non dare niente per scontato perché se non ti poni ogni giorno gli obiettivi gli obiettivi non vanno a termine quindi devi lavorare si deve cominciare da zero però alla fine se tu tutti i giorni vivi con lo spirito di ricominciare da zero in effetti però da zero 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 non ci non ricominci perché ogni giorno tu avrai maturato delle competenze delle capacità insomma ogni volta diventa meno più meno faticoso se tu ti poni degli obiettivi cioè lunedì è pesante perché sei tu che lo vuoi vivere pesante ma se cominci ad avere un piano di settimana o dei piani tuoi vivere la vita un po' diversamente il lunedì non è così pesante questo che voglio dire cioè abbiamo un'ottica di cominciare da zero perché ogni giorno come romanticamente hanno detto i filosofi vai a letto e un po' si muore e al mattino è sempre un risveglio c'è comunque questa metafora e quindi ogni giorno è un giorno zero da fare perché se per esempio non ti svegli ti alzi e non fai le cose le cose non si fanno da sole però davvero abbiamo la fortuna di essere degli esseri umani e di apprendere abbiamo la capacità di apprendere non si smette mai di imparare e quindi perché non avete imparato a non odiare il lunedì? questo voglio dire si ricomincia da zero ma non è vero totalmente da zero perché tu ogni giorno hai imparato una cosa in più avrai vissuto tanti lunedì perché non impari a dire sì va bene ho passati tanti lunedì perché oggi deve essere un giorno più pesante rispetto a martedì di lavoro a meno che non abbiate vabbè accumulato mail o che ne so ci sono lavori dove il lunedì è pesante forse perché c'è del lavoro arretrato accumulato da due giorni di riposo ecco la mia riflessione oggi era questa che si veramente ricomincia da zero 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 sì ogni giorno è un giorno zero ogni giorno si riparte da capo ragazzi non ce n'è per nessuno e vale per tutti anche per chi non fa niente si sveglia e deve respirare quindi ogni giorno è un giorno zero per tutti non solo per chi lavora da lunedì al venerdì e poi sia perché è una diciamo è una convenzione sociale lunedì davvero abbiamo perso perdiamo un po questa dimensione ciclica sono sempre meno i lavoratori che lavorano da lunedì al venerdì adesso con la situazione mondiale in cui stiamo vivendo la gente lavora più di smart working quindi c'è non c'è solo una differenziazione temporale ma anche a livello di spazio cioè tu ti svegli e lavori da casa quindi c'è comunque questa poca differenziazione del tempo no del tempo vissuta a casa del tempo lavoro si sta mischiando tutto un po' e molta più gente lavora per esempio alla domenica come ha detto prima mauro i ristoratori i lunedì si riposano ma tanti hanno però per esempio il giorno di riposo di di mercoledì o di martedì perché lunedì la gente va a mangiare lo stesso cioè non è che per esempio i parrucchieri che stavano tutti chiusi di lunedì capisci cioè ma loro di lunedì non si deve fare i capelli cioè io ho avuto un'amica che si è sposata di lunedì cosa facciamo non ci facciamo i capelli la sposa non si fa i capelli o di lunedì non mangiamo no perché il giorno di riposo per esempio ce l'hanno il mercoledì tanti o il martedì cioè il mondo non si ferma e attraverso questa società pur iperconnessa dove nulla ci vieta di vedere con una webcam un video live cosa sta succedendo a New York a New York adesso è mezzogiorno quindi viviamo sempre più in una società che non dorme mai iperconnessa perché se tu lavori con l'estero per esempio ti può arrivare l'email del giapponese il tuo cliente giapponese a un orario incerto improbabile come da un tuo cliente New Yorkese che ne sai è tutto molto più iperconnesso globalizzato quindi abbiamo per fortuna la rotazione della terra che ci aiuta a distinguere il giorno dalla notte ma in realtà viviamo sempre più in una società dove non c'è questa distinzione per esempio si è sempre raccontato New York le grandi metropoli sono le città che non dormono mai io mi sono accorta che quando ho viaggiato a New York e a Londra si mangiava a qualsiasi ora cioè se per esempio qua i ristoranti alle 3 chiudono e riaprono alle 19 i ristoranti la non chiudono mai si mangiava a qualsiasi ora era una cosa veramente divertente perché comunque avevi fame ogni secondo perché i ristoranti emanavano profumini a ogni ora a ogni ora e quindi chi te lo dice che non puoi farti i capelli alle 19 di sera cioè penso che nelle grandi città ci siano i parrucchieri aperti fino alle 22 e aperti fino a 8 fino a quello fino all'altro quindi questo significa che riguardo anche le polemiche del passato che adesso non si ricorda più nessuno ma ve le ricordate quelle polemiche fino a un paio di anni fa delle commesse o dei lavoratori che si opponevano a lavorare alla domenica ma perché il mondo si deve fermare di domenica io lo so che avete i figli volete vivervi la giornata con i figli eccetera però potete organizzare una giornata con i bambini il mercoledì ok mezza giornata perché vanno a scuola tutto quanto però potete vivere con i vostri figli tutte le sere vivere magari intensamente tutte le sere cioè non è che per forza si doveva vivere di domenica e allora c'era stato questo grande movimento contestatorio di opposizioni che di domenica i negozi dovevano essere chiusi a me mi spiace per chi vuole stare in famiglia per carità non dico che devono lavorare tutte le domeniche però l'economia gira poi alla fine la gente doveva quei figli andavano a riempire i centri commerciali tutti ma ci sta se vi piace fare shopping perché non potete andare con i figli a fare shopping la domenica cioè l'economia gira di più poi queste famiglie comunque devono portare a casa il cibo se la domenica magari la maggiorazione perché non devi lavorare quindi venivano trattati male chi lavorava poi scusate i treni non si fermano gli autobus non si fermano i ristoranti non si fermano gli ospedali non volevo dirlo gli ospedali non si fermano l'aviazione non si ferma però i negozi si no? cioè uno alla domenica pomeriggio il pane non ti deve servire no 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 i pannolini no 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 non ti possono servire c'è stato un periodo prima della pandemia che un supermercato vicino a casa mia era aperto 24 ore su 24 e io lavorando su turni ne approfittavo e quindi quando finivo a luna di notte a lavorare andavo al supermercato che tanto era quello mio di fiducia conoscevo tutti sapete chi c'era a comprare le cose a luna di notte? no nei ragazzi l'alcol perché l'alcol veniva cioè dalle 9 in poi non si poteva o dalle 10 in poi non si poteva vendere quindi non era per vendere alcolici ma cosa vedevo? i papà o comprare i latte i bambini i pannolini c'è i prodotti per i bambini sapete quanti noi sti a quell'ora lì? perché? perché le famiglie comunque fanno fatica ad organizzarsi e tenere i negozi chiusi alla domenica costringevano davvero le famiglie a una difficile capacità organizzativa ma se davvero anche i poveri cristi lavorano da lunedì al venerdì allora tutti a fare la spesa al sabato? perché se i negozi possono vendere di più anche alla domenica o comunque offrire i centri commerciali che ci piacciono no può essere comunque un punto ricreativo non so tu fai la spesa smolli lì i bambini a giocare dico così per sempre